Cari amici, benvenuti a questo appuntamento editoriale di CarpOnline. Una settimana CarpItaly, i primi risultati. Mercoledì è stato votato all'emendamento, presentato al Partito Democratico sul braconaggio con inaspiramento delle pene. Non era esattamente ciò che ci aspettavamo, ma sicuramente un passo avanti perché quantomeno il Parlamento ha preso atto della situazione che si è venuta a creare nel nostro paese con una serie di norme che rendono un pochino più difficile la vita ai braconieri. Chiaramente stiamo ancora parlando di sanzioni di tipo amministrative che non troveranno nessun esito né tantomeno fungeranno da deterrente, ma è il primo passo di un lungo cammino che ci porterà sicuramente a dei risultati concreti. Per un attimo voglio lasciare il discorso legato a braconaggio e all'incontro di mercoledì in Parlamento per parlare di qualcosa di estremamente serio. Lago del Turano, 4, 5 e 6 marzo, si svolgerà la seconda edizione di Un Grande Gesto per un Piccolo Cuore, organizzato da Valerio Lattarulo con l'aiuto degli amici del Turano, in particolare Mirko Antonelli. Una manifestazione di solidarietà in cui la pesca sportiva, la pesca ricreativa, in particolare il carfishing, mostreranno ancora una volta, ne sono certo, le proprie doti, il proprio sentimento solidale per cercare di portare un piccolo contributo a chi è meno fortunato. Su Carpolline e sui social troverete tutte le informazioni per partecipare direttamente alla manifestazione e anche indirettamente con delle donazioni che possono essere anche molto piccole, ma sono gesti importanti per cercare ancora una volta di rendere utile il nostro mondo, la nostra confraternita in queste situazioni. Quindi aiutiamo Valerio Lattarulo, aiutiamo la seconda edizione di Un Grande Gesto per un Piccolo Cuore, Lago del Turano, 4, 5 e 6 marzo. E ora torniamo a parlare di bracconaggio. Parliamo di bracconaggio anche perché abbiamo avuto dei resoconti della discussione che vi è stata nell'aula parlamentare e ora mi accingo a leggere alcune delle frasi perle che sono uscite dalla bocca di alcuni dei nostri parlamentari, in particolare di uno, ma non voglio rascondervi la sorpresa. Allora cerchiamo di capire, si dice, se stiamo organizzando una bomba atomica sulla Repubblica di San Marino perché magari si vuole dichiarare guerra, allora posso capire, altrimenti qui stiamo parlando di cose che non esistono, non esistono. Stiamo parlando di bracconaggio, quindi di bracconaggio abbiamo scoperto che non esiste. Qui stiamo parlando di una situazione abnorme, costruita a livello di fantasia col famoso animalismo, con il famoso no a tutela di cosa. Queste parole vengono fuori dall'intervento dell'onorevole, cosiddetto, io lo chiamerei deputato, signor Giuseppe Romele, Forza Italia Popolo delle Libertà, eletto nel 2008 di Pisogni e Brescia, 500 unesimo su 630 parlamentari in quanto a produttività, un signore buono probabilmente a muovere pulsantine per dare dei voti seguendo le indicazioni dei capi gruppo, ma certamente venendo sul 500 unesimo posto non in grado di proporre ammendamenti o leggi per le quali profuta, profumatamente pagato e per le quali riceverà un cospicuo vitalizio pagato chiaramente con le nostre tasse. Ebbene, questo gentiluomo ha deciso che il bracconaggio non esiste, dimostrando un'ignoranza baratrale, di cui vergognarsi sinceramente, noi abbiamo già dei casi che sono ben illustrati dal bravissimo Crozza, il famoso Razzi, e qui non andiamo molto lontano onestamente, perché le cose che abbiamo letto nel suo intervento sono veramente vergognose, il bracconaggio non esiste e quindi 2500 tonnellate di pesce sparite negli ultimi tre anni sono l'invenzione della stampa, il 60-70% della biomassa rubata dall'area aerea padano sono invenzione delle università, noi facciamo i convegni perché siamo degli alcolisti cronici, evidentemente ci sogniamo le cose, gli uomini che di notte, senza straordinari, senza mezzi, senza leggi che li proteggono, vanno e si infilano nel freddo della pianura padana per cercare di sequestra reti, beccare braconieri, sono semplicemente dei pazzi che amano la natura e vederla di notte, perché questa probabilmente è l'idea che si è fatta tal Giuseppe Romere, Forza Italia, popolo delle libertà eletto nel 2008 e che probabilmente non verrà mai più eletto, ma chi se ne frega perché tanto il vitalizio l'ha già maturato, evidentemente siamo una manica di pazzi se siamo andati nei vari programmi televisivi e con i fatti e con le immagini abbiamo dimostrato in questi dieci anni quanto grave possa essere la situazione, sapendo nome per nome i famosi lipoveni, sapendo dove abitano, sapendo chi li ha aiutati, a quali studi legali si appoggiano, tutta una serie di cose che hanno mosso non personaggi di bassissimo livello come può essere il sottoscritto, ma anche i presidenti di federazione, i presidenti di federazione del Cone, politici che hanno dedicato la loro attenzione, parlamentari, ebbene salta fuori questa perla di questo signore che appunto dimostra ancora una volta che la fantasia dei politici è assolutamente zero, non a caso comunque quel partito politico che ha brillato per vent'anni di non governo nel nostro paese, io e me sono stato vent'anni fa tra l'altro un elettore pentitissimo, non è stato presente a Gonzaga, non è un caso, evidentemente il loro modo di pensare è talmente distante da quello dei cittadini che la pagheranno duramente alle prossime elezioni, probabilmente sparendo definitivamente, certo se personaggi del genere alla Giuseppe Romele Forza Italia, Popolo di Libertà, eletto nel 2008, che è sette anni che fa danni nel nostro Parlamento dicendo queste ignobili cose, certo il danno è veramente minore, bene lasci uno spazio a che idea, io sicuramente non avrò la possibilità in un'aula parlamentare di esprimere i miei pareri, i miei giudizi, sarei stato probabilmente più efficace del signor Giuseppe Romele di Forza Italia, Popolo di Libertà, che ha dimostrato di non avere senso della vergogna, di essere impreparato e di non essere degno del ruolo che svolge, lo dice uno che per vent'anni ha servito la patria con le stellette, che lasciate le stellette, ha continuato a servire la patria e il nostro ambiente cercando di dare un contributo assai positivo di quello che lui può aver fatto in tutta la sua vita, 64 anni completamente buttati in niente, con un vitalizio che pagheremo noi con le nostre tasse, con un salario che la maggior parte dei cittadini italiani si vedono guadagnare forse in un anno di lavoro per permettersi di dire queste cose che offendono un milione e mezzo di persone, ma poi ci saranno le elezioni e forse, forse, forse giustizia sarà fatta. Arrivederci, deputato Giuseppe Romele, Forza Italia, Popolo di Libertà. Grazie a tutti.